La Russia è pronta a raid di rappresaglia se il suo territorio verrà attaccato con armi occidentali. È la dura risposta del Cremlino al governo britannico. In Germania 40 paesi fanno fronte comune per sostenere militarmente Kiev. Il segretario generale dell'ONU oggi a Mosca. 13 milioni di persone sradicate dalle proprie case. Oltre 5 milioni hanno abbandonato l'Ucraina. Gli altri sono sfollati interni. È il quadro della catastrofe umanitaria in cui versa l'Ucraina. Nettigì le storie di tre famiglie ospitate a Leopoli. Gli aumenti del prezzo del gas e dell'energia mettono in crisi le famiglie di tutto il vecchio continente. L'allarme è lanciato dalla Banca Centrale Europea. Sempre più spesso si ricorre ai risparmi per pagare le bollette a fine mese. Accanto alla crisi energetica, quella alimentare, i raccolti di Ucraina e Russia saranno molto meno ricchi. Una situazione che si somma alla crisi ambientale, alla siccità, a pagarne le conseguenze le fasce più deboli della popolazione e i paesi meno sviluppati. Chernobyl, 36 anni fa, dopo il disastro nucleare nella centrale nucleare che spaventò mezzo Europa. Oggi la paura arriva dalla guerra. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dice che l'occupazione delle russi è stata pericolosissima, ma oggi i livelli di radiazioni sono tornati normali. 18-28, una manciata in secondi. Buonasera e benvenuti al TG2000. Nella giornata in cui il segretario generale dell'ONU, Antonio Gutierrez, è a Mosca per cercare di far tacere le armi, la tensione tra Russia e Occidente raggiunge livelli molto alti. In Germania, vertice di oltre 40 paesi per aumentare il sostegno militare all'Ucraina. Durissimo scambio di minacce e tra governo britannico e russo. Marco Burini. E se la terza guerra mondiale fosse già cominciata? Dentro e fuori l'Ucraina si combatte una battaglia feroce in cui nessuno molla niente, anzi alzano tutti la posta e chi prova a mediare viene ignorato. Oggi doveva essere il giorno del segretario ONU a Mosca e in effetti Guterres ha incontrato prima Lavrov e poi Putin, ma né il padrone del Cremlino né il suo braccio destro diplomatico, hanno dato segnali di apertura. Guterres ha chiesto il cessate il fuoco e proposto un gruppo di contatto ONU-Ucraina-Russia per i corridoi umanitari. Poi ha detto che quello che la Russia chiama operazione militare speciale con un obiettivo non ancora annunciato per l'ONU è una violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Prima del segretario ONU, Putin ha ricevuto gli atleti russi vincitori di medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino, dove ha rinsaldato l'alleanza con Xi Jinping. Ma la situazione è davvero delicata se il governo cinese interviene per dire che bisogna darsi una calmata, che nessuno vuole una terza guerra mondiale, lo spettro evocato da Lavrov in reazione alle manovre della Nato. O meglio, della Lega per l'Ucraina, come il segretario della difesa americano ha ribattezzato il vertice di 40 paesi, chiamati a fare di tutto per aiutare Kiev a vincere, ha detto Austin dalla base di Rammstein, in Germania, il cui governo adesso è pronto a mandare i carri armati a lungo invocati da Zelensky, che invece se l'è presa con Guterres perché è andato a Mosca prima di Kiev. Nervi a fior di pelle tra Londra e Mosca. Se i britannici ritengono legittimo che gli ucraini usino armi ricevute dall'Occidente per colpire in territorio russo, anche noi potremmo prendere di mira i paesi che riforniscono Kiev, avverte la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova. Così un altro giorno muore tra minacce e foschi presagi. Si intensificano gli attacchi russi a sud e a est, l'offensiva punta su Zaporizia, Kramatorsk e Sloviansk nel Donetsk e nella regione di Kherson, colpito un centro radiofonico russo in Transnistria. Sentiamo Fabio Bolzetta. Si intensificano gli attacchi russi, il mirino punta ora verso la zona sud ed est dell'Ucraina. Sarebbero almeno 9 civili uccisi nei bombardamenti. Due razzi sono finiti sulla città di Zaporizia, nel cuore del paese. Altri due missili aerei avrebbero sorvolato l'impianto nucleare della città dal 4 marzo sotto controllo russo. Si alza il livello di allarme in Transnistria, al confine non riconosciuta dalla Moldavia, nell'autoproclamata Repubblica filorussa che denuncia le tracce portano a Kiev tre incidenti nelle ultime 24 ore. Attaccata con granate, la sede del Ministero della Sicurezza, colpito da esplosioni, un centro di trasmissione radiofonico attaccata a una unità militare di stanza nel villaggio di Parcani. La nostra analisi indica che ci sono tensioni tra diverse zone all'interno della regione che sono interessate a destabilizzare. Ciò rende vulnerabile la regione della Transnistria e crea rischi per la Moldavia, afferma la Presidente della Repubblica, Maya Sandu. Nessuna tregua a Mariupol per il vice sindaco Neriv Orlov. Gli attacchi russi alle acciaierie di Azovstal proseguono senza sosta e secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono arrivati a 164 gli attacchi alla sanità dall'inizio del conflitto con 73 morti e 52 feriti fra il personale medico e sanitario. E ora andiamo in Ucraina, a Leopoli, con il nostro inviato Vito De Torre. A te Vito. Buonasera Cesare, buonasera a tutti i telespettatori. Come vedete questo è uno dei monumenti di Leopoli, così puntellato, imbragato con delle lastre d'acciaio per proteggerle in caso di esplosioni. Questa è la quotidianità qui a Leopoli. I russi stanno colpendo alcune infrastrutture ferroviarie. Questo è un fatto cruciale, nevralgico per l'Ucraina. Qui tutti gli aeroporti civili ovviamente sono chiusi, quindi il trasporto ferroviario è davvero fondamentale per gli scambi all'interno dell'Ucraina. È stata colpita un'infrastruttura ferroviaria a poche decine di chilometri da qui, circa 40 chilometri da Leopoli, l'infrastruttura ferroviaria del paese di Krasne. È un punto importante di collegamento tra Leopoli e la capitale, e Kiev. Dunque tutti gli aiuti umanitari, l'approvvigionamento anche alle truppe, i beni che devono arrivare alla capitale attraversano questo piccolo tragitto ferroviario. Il comunicato ufficiale di poco fa delle ferrovie ucraine dice che dopo i primi lavori sarà aperto un servizio ferroviario a binario unico e poi dopo il completamento saranno ripristinate a pieno regime tutti i trasferimenti verso Buccia, Irpin e Borodianca. Sono dei centri che si trovano vicino alla capitale, vicino a Kiev. Noi oggi siamo andati in un centro di accoglienza che ospita i profughi. Tra l'altro arrivano con i treni, treni di evacuazione. È un posto davvero tristissimo, tristissimo perché queste persone che hanno visto la morte, hanno visto la guerra, non riescono ad immaginare neanche un futuro. Allora andiamo a vedere questo servizio, poi la linea può tornare allo studio. La tristezza di questo luogo quasi aggredisce chi entra qui per la prima volta. C'è chi trascorre a letto tutta la giornata, chi soffre in silenzio. I bambini giocano tra i letti dei profughi. Fuori sarebbe troppo pericoloso. Gli anziani aspettano solo la fine della giornata. Sono andata via da Kharkiv dieci giorni fa. I russi hanno distrutto tutto. So che ieri hanno bombardato anche la nostra televisione regionale. Addirittura hanno lanciato le bombe a mano contro il nostro treno mentre stavamo andando via. Abbiamo viaggiato tutta la notte, sempre al buio, per non essere visti. Vi dico una cosa. Io non ho più un passato, perché il villaggio dove sono nata non esiste più, e non ho un futuro, perché sto solo sopravvivendo. Kherson è una città dell'Ucraina. Noi non siamo russi, siamo ucraini. Adesso io e le mie figlie andremo in Polonia, perché qui non mi sento al sicuro. E mio marito invece tornerà a Kherson per combattere contro gli invasori russi. Quando hanno iniziato a bombardare a Zaporizia abbiamo provato, io e mia moglie, a restare perché lei ha una grave disabilità alle gambe e fa fatica a camminare. Ci siamo chiusi nei bunker sperando che la guerra sarebbe finita presto. E invece era pericoloso anche nei bunker. E così siamo stati costretti ad andare via. Ma anche qui non mi sento al sicuro, perché il giorno dopo che siamo arrivati siamo stati colpiti da quattro missili. Credo che andremo in Italia, dalla madre di mia moglie. Vorreste andare in Italia? Sì, penso così, sì. Distrutta adesso Zaporizia? Sì. Altro scenario, ancora violenze in Medio Oriente. Un manifestante palestinese è stato ucciso in scontri con l'esercito israeliano nel campo Profughi, nei pressi di Gerico, in Cisgiordania. La corrispondente Alessandra Buzzetti. Non c'è stata per ora un'escalation, ma rimane tesa l'atmosfera non solo a Gerusalemme in questa ultima settimana di Ramadan. Non passa una notte senza scontri ed arresti nei territori palestinesi. Ieri un giovane è rimasto ucciso in un campo Profughi vicino a Gerico, nella guerriglia urbana contro l'esercito israeliano, in azione da settimane in diverse città palestinesi. Operazioni antiterrorismo, secondo le autorità israeliane, accusate da diversi paesi arabi di alimentare la violenza con le ripetute irruzioni e la spianata delle moschee. Lacrimogeni, ferite e sassaiole hanno segnato ogni venerdì di Ramadan. Se il re di Giordania, formale custode della spianata, affida le sue proteste ai canali diplomatici, a partire dagli Stati Uniti, da Gaza, nello scorso fine settimana sono partiti alcuni razzi. Solo deboli avvertimenti per ora, tanto che oggi le autorità israeliane hanno riaperto il valico per i lavoratori con permesso di uscita dalla striscia. Colpi di artiglieria sono partiti in mattinata anche dal confine con Libano, senza reazioni, ma segno di un malessere crescente di fronte all'assenza di un orizzonte politico, sia per i libanesi ormai alla fame che per i palestinesi, sempre più frustrati ed emarginati. Ed ora il capitolo salute. Da un lato il Covid, con la decisione attesa, ma non certa, sull'addio alle mascherine dal primo maggio, ma con dati che segnalano una circolazione attiva del virus e dall'altro le epatiti, di origine sconosciuta per ora. L'Istituto Superiore di Sanità esclude il legame con il vaccino anti-Covid. Il servizio di Letizia Davoli. La linea per un eventuale abbandono dell'obbligo della mascherina al chiuso sarà quella della prudenza e quindi l'ipotesi sul tavolo di mantenerla ancora per qualche settimana fino alla fine di giugno per abbandonarla in estate. Lo ha ribadito anche oggi il Ministro Speranzi in attesa della riunione del Consiglio dei Ministri, prevista entro la fine di questa settimana un incontro da cui dovrà uscire un nuovo decreto con le nuove misure anti-Covid, sia che siano confermate quelle ancora in vigore, sia che siano limitate solo da alcuni luoghi a particolare rischio di contagio, come cinema, teatri e mezzi pubblici. Di certo l'obbligo di FFP2 verrà mantenuto negli ospedali e nell'RSA, mentre in altre situazioni, inclusi centri commerciali, potrebbe essere obbligatoria quella chirurgica. La decisione dipenderà dai dati delle prossime ore. Il virus è ancora troppo diffuso tra la popolazione, con una media di oltre 50.000 nuovi contagi al giorno. Il lieve crescita, secondo Agenas, l'occupazione delle strutture sanitarie, ma i numeri sono molto lontani dai livelli di allarme. Restate intanto l'attenzione sui casi di epatite di causa non nota registrate in diversi paesi europei. Un elemento importante è che nella casistica più rilevante, quella inglese, di più di cento casi, nessun bambino è vaccinato contro il Covid. Quindi bisogna assolutamente escludere la vaccinazione, come alcune fake news cominciavano a far evidenziare ingiustamente. Nessun legame col vaccino, anche quanto ribadisce oggi l'Istituto Superiore di Sanità, tra le ipotesi sul tavolo. Per spiegare questa patologia rara, ma comunque presente nei bambini, restano diversi virus già noti. Per avere risposte, bisognerà lasciare alla ricerca il tempo necessario. Drastiche misure invece a Pechino, che ha avviato oggi i primi test di massa anti-Covid in altri dieci distretti della città, in aggiunta a quello centrale di Chao Yang, puntando alla copertura di circa 20 dei suoi 23 milioni di residenti totali. Beatrice Bossi. A Pechino tornano le lunghissime file per i tamponi anti-Covid. Le autorità sanitarie cinesi hanno imposto un controllo di massa e nel giro di pochi giorni oltre 21 milioni di persone saranno sottoposte a tampone. L'ultimo bollettino dell'epidemia segna a Pechino 22 casi positivi, numeri che non dovrebbero spaventare, ma che in assenza di un valido vaccino invece fanno paura. Il timore più grande è quello di tornare a chiudere tutto, come a Shanghai, dove il governo è stato costretto ad un duro lockdown per spegnere il peggior focolaio del 2022. Ancora in vigore, le misure anti-Covid stanno mettendo in ginocchio la città portuale, l'attività commerciale è in crisi e anche il resto del mondo comincia a sentirne le ripercussioni. Questa fotografia monitora il traffico navale in tempo reale e mostra chiaramente le difficoltà in cui versa il più grande porto del pianeta, decine di container fermi per caricare la merce, mentre miliardi di dollari svaniscono nell'attesa. E veniamo agli effetti della crisi energetica, causata anche dalla guerra in Ucraina. Le famiglie attingono dai loro risparmi per attutire l'impatto che i prezzi più elevati dell'energia hanno sui consumi. E' quanto afferma la Banca Centrale Europea nel bollettino economico. Ce ne parla Luciano Piscaglia. Il caro bollette erode il risparmio delle famiglie italiane, soprattutto di quelle più povere. A lanciare l'allarme è la Banca Centrale Europea. In un'anticipazione del bollettino economico rivela che l'impatto dell'aumento dei prezzi del gas e dell'energia è 5 o 6 volte più pesante sulle famiglie meno abbienti, costrette a tirare la cinghia, a ridurre i consumi di beni e servizi essenziali e poi a mettere mano ai risparmi, soffocando i progetti per il futuro. Sono rimasta molto sorpresa, spiacevolmente, dal ritrovare quasi triplicato il costo della bolletta. Non ha inciso fortunatamente troppo nell'andamento della gestione economica della famiglia. Guardi, la bolletta l'ultima che ho vista era praticamente raddoppiata dell'energia elettrica. Il gas lo sto ancora aspettando. Ridurre il consumo è un po' d'ora, è un po' d'ora. Incide tantissimo perché sono le prime cose che devono essere obbligatoriamente da pagare. Quindi o metti da una parte e togli dall'altra o viceversa. Quindi poi si rimane senza niente comunque. Solo il 20% delle famiglie più ricche non ha cambiato o ha cambiato poco lo stile di vita e di spesa. Su tutte le altre, più il reddito è basso e più è alto l'impatto del caro bollette. E questo ha tanto inciso sui consumi e sui risparmi da indurre la BCE a chiedere misure di politica fiscale mirate per le famiglie più colpite dal caro bollette. Dopo mesi di siccità, con qualche precipitazione nei giorni scorsi, stanno arrivando quattro giorni di pioggia più intensa. Sono previste raffiche di burrasca su gran parte del centro sud, in particolare su coste Sicilia. Pioverà inoltre in modo diffuso sul nord-ovest e sulle regioni tirreniche, ma avremo temporali anche sulla Sardegna. E tra le conseguenze della guerra in Ucraina c'è una crisi alimentare che non è limitata la sola Europa per la ridotta fornitura dei cereali e degli oli di semi, di cui Kiev è grande produttore. La crisi sta diventando globale. Ce ne parla Barbara Masulli. Granaio d'Europa, così viene chiamata l'Ucraina, che, assieme alla Russia, è fra i maggiori esportatori al mondo di frumento. Secondo il Ministero della Difesa del Regno Unito, a causa della guerra il raccolto ucraino diminuirà del 20% rispetto all'anno scorso. L'Italia importa poco grano dal paese, ma subirà comunque delle ripercussioni. Il fatto che venga a mancare il frumento tenero dell'Ucraina potrebbe condizionare ulteriormente i corsi internazionali del prezzo del frumento tenero e quindi dare degli effetti indirettamente anche su quella che è l'economia italiana. Ci saranno invece conseguenze più pesanti per i paesi del mondo che sono più poveri? Il rischio è quello. Queste carenze di cereali abbiamo visto già in passato che possono comunque poi determinare delle situazioni pericolose a livello di ordine pubblico, a livello di sommosse proprio per la carenza di pane o per il prezzo troppo alto del pane. Tanto è vero che l'intervento dell'Unione Europea nella direzione di liberare dall'obbligo della messa a riposo i terreni che sono circa 200 mila ettari in Italia, i terreni che altrimenti dovevano essere non coltivati, ha proprio l'ottica di cercare di rimediare a questa situazione. Servono interventi strutturali e globali. L'amministrazione Biden sta valutando un pacchetto da 5 miliardi di aiuti per far fronte alla crisi alimentare provocata dalla guerra, ma anche da cambiamenti climatici e siccità. Bisogna che si mettono in atto quelle misure necessarie innanzitutto per cercare di avere la disponibilità dell'acqua. Noi è da tempo che ragioniamo di una rete di invasi per poter trattenere l'acqua quando arriva, per poterla utilizzare poi quando non ce n'è. E poi dall'altra parte dobbiamo sicuramente cercare di intervenire per abbassare il costo dell'energia. Sospese oggi tutte le attività del Papa, lo comunica la sala stampa della Santa Sede. In una nota si specifica che la ragione è il dolore al ginocchio e sul Consiglio Medico. Il Papa non ha dunque preso parte neanche al Consiglio dei Cardinali, programmato per questa mattina. Il Papa ha nominato arcivesco di Parigi Monsignor Laurent Ulrich, finora arcivesco di Lille. Succede all'arcivesco Petit. Francesco aveva accettato le dimissioni del presule il 2 dicembre scorso. Notizia in chiaro oscuro per il mondo del lavoro. Stando ai dati di Eurostat nel 2021, il tasso di occupazione medio dell'Unione Europea ha recuperato sul 2019, ma non in Italia. Marino Galdiero. L'occupazione nell'Unione Europea migliora rispetto al periodo della pandemia, anche se non per tutti i paesi allo stesso modo. In Italia il recupero è più lento ed è dovuto ad una difficoltà di lungo periodo, più che a causa del Covid. Peggiora inoltre nel nostro paese l'occupazione femminile. Il tasso di occupazione medio nell'Unione Europea nel 2021 arriva al 68,4%. Rispetto al 2019, quando furono comunicati i primi casi di polmonita tipica di origine virale, c'è stato un incremento di 0,3 punti percentuali. Lo stesso andamento non si registra in Italia, che resta indietro di 0,8 punti, toccando il 58,2%. I dati sono stati presentati da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. L'unico paese ad essere sotto di noi in questa classifica dei posti di lavoro è la Grecia, che però nel 2021 ha recuperato 1,1 punti percentuali sul 2019. Per quanto riguarda le donne a fronte del 63,4% occupate in media nell'Unione Europea e in Italia raggiungono solo il 49,4%, di età compresa tra i 15 e i 64 anni. È stato trovato morto nel fiume Brent, il ragazzo a 15 anni è scomparso la sera di giovedì 21 aprile a Pado, il corpo di Amè Giudè di origine marocchina è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco all'altezza della passerella pedonale, fra le frazioni di Torre e Mortisi a ridosso del punto dove stamane era stato rivenuto il suo telefono cellulare. Da un primo esame non emergono segni di violenza, ma sarà l'autopsia a chiarire cosa sia successo al ragazzo. Nelle diocesi italiane si è ripreso a fare formazione all'impegno sociale e politico. Sono 55 le scuole attive e i delegati si sono incontrati oggi a Roma. Luigi Ferragliuolo. Politi Design è una scuola di classe dirigente, è sorta a casetta nel periodo della pandemia, siamo già quasi a fine corso, giugno l'ultima elezione. La scuola di Verona cerca di rispondere fondamentalmente a tre domande. Una domanda di persone, soprattutto giovani, che vogliono entrare in politica. La nostra scuola di politica della diocese di Alesterralba è giovanissima perché è nata nel 2018. Costruire una piattaforma nazionale di contenuti e contatti delle scuole all'impegno socio-politico delle diocesi italiane e realizzare una ricognizione di tutte le esperienze sul campo. È il senso del primo seminario delle scuole diocesane di politica, tenuto sia a Roma, promosso dall'Ufficio Nazionale della Pastorale Sociale della Conferenza Episcopale Italiana. Spesso è trascurata e ci lamentiamo della distanza dalla Chiesa alla vita sociale, eppure proprio su questo fronte noi oggi possiamo essere significativi. Abbiamo una risorsa che sono questi percorsi, corsi, scuole di formazione socio-politica che attraversano tutto lo stivale del nostro paese. Sono 55 le scuole operative in Italia, in 15 regioni, con esperienze da Vittorio Veneto a Noto, passando attraverso Sassari, Siena, Latina e Taranto. I temi più ricorrenti sono l'economia e l'ambiente nella declinazione della Laudato Si, ma anche la storia. Sono normalmente aperte a tutti, ma ci sono anche esperienze di tipo universitario, come comunità di connessioni a Roma. È una maniera di stare nella storia in questo momento, di dare delle risposte, una grande testimonianza di una grande forma di carità che è appunto la politica. Le scuole sono in crescita negli ultimi anni, dalle 42 del 2019 alle 55 di oggi. Addio ad Assunta Almirante, moglie del fondatore e leader storico del Movimento Sociale italiano Giorgio Almirante. Un'anime il cordoglio della politica conosciuta come Donna Assunta, era considerata la memoria storica della destra italiana. Aveva 100 anni, compiuti lo scorso 14 luglio. Sri Lanka, tre anni dagli attacchi di Pasqua, che non hanno ancora avuto giustizia, un'ombra cala sull'origine del gesto. Si disse allora che fu l'isis, ma oggi sta emergendo una strategia delle tensioni di natura diversa. La testimonianza del cardinale di Colombo, Rainit, nel servizio di Pierluigi Vito. 21 aprile 2019. Nella capitale dello Sri Lanka, Colombo, due chiese cattoliche e una evangelica insieme a tre alberghi vengono devastati da potenti esplosioni quasi simultanee. Muoiono 369 persone, tra cui 82 bambini e 47 turisti stranieri da 14 paesi. Autori di tanta strage, sei attentatori legati all'isis. O almeno così pareva all'inizio, e così si ostina a ripetere il governo. Ma dietro la loro mano omicida ci sarebbe una provata complicità dei servizi segreti e delle autorità sri lanchesi. Siccome quella parte del governo era molto legata alla persona dell'attuale presidente, l'esitazione a non esaminare le cose bene, si collega con un tentativo probabilmente dell'attuale governo a vincere le elezioni attraverso, creando un terrore nel paese. Una riedizione della strategia della tensione di cui fu protagonista l'Italia 50 anni fa, con tanto di capi della polizia e dell'intelligence che invece di essere chiamati a rispondere di mancanze e collusioni con gli attentatori, sono stati promossi. Per questo la chiesa sri lanchese, ferita dagli attentati, alza la voce per chiedere giustizia. Abbiamo protestato, abbiamo fatto tante campagne, ma non abbiamo avuto successo, continuano a resisterci. Allora a questo punto noi abbiamo pensato che bisogna andare all'estero, andare a livello internazionale. È sostenuto da Francesco in quest'opera di verità il cardinal Rajit, che ieri ha commemorato i caduti della strage con una messa in Vaticano, accompagnato da 45 fedeli, feriti o parenti delle vittime. Una comunità che oltre all'ingiustizia ora patisce l'incapacità del governo di fronteggiare la grave crisi economica che attanaglia lo Sri Lanka. Siamo veramente, la nostra gente è colpita duramente, si sentono traditi. 36 anni fa l'incidente nucleare di Chernobyl e il 26 aprile di ogni anno si celebra la giornata internazionale che commemora il disastro che ha condizionato per anni la vita degli europei. Clara Iatosti. Il livello di radioattività della centrale ucraina di Chernobyl è anormale. Lo sostiene Raffaele Grossi, il capo della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'occupazione del sito da parte dell'esercito russo, dice, tra il 24 febbraio e la fine di marzo, è stata pericolosissima. A distanza di 36 anni, dunque, Chernobyl fa ancora paura. Nel 1986, in un'Ucraina ancora parte dell'Unione Sovietica, il disastro nucleare. Nella notte esplose il reattore numero 4. L'incidente fu classificato come livello 7, il massimo della gravità, ma a lungo Mosca negò prima l'accaduto, poi l'entità della tragedia. Le morti accertate furono una sessantina, ma le conseguenze di quell'incidente durarono anni. Oggi quell'area ormai deserta e ancora fortemente contaminata è teatro di guerra, forse più psicologica che reale. Con cinismo, il presidente russo Putin ha inviato le sue giovani truppe, ha fatto scavare trincee, portato via materiale radioattivo, computer ed alcuni lavoratori dell'impianto. Durante l'occupazione russa, raccontano al municipio di Slavutich, la città satellite, la centrale è stata lasciata per sei giorni senza corrente elettrica e i tecnici sono stati costretti a lavorare anche 600 ore di fila, senza turnazione. E mentre i russi lanciavano missili sul sito di Zaporizia, nonostante il coprifuoco notturno imposto in tutto il paese, un minuto di silenzio ha ricordato le vittime del disastro del 1986. Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi. Eccoci di nuovo insieme ancora con una notizia. La Polonia deve pagare entro oggi le forniture di gas russo rispettando la nuova procedura che prevede l'uso del rublo. Lo fa sapere Gazprom citata dalla TAS dopo aver smentito di aver già sospeso le forniture attraverso il gasdotto Yamal. Ed è tutto per ora. Ora il meteo e poi la diretta della Messa. Prossimo Tg alle 20.30. Buon proseguimento. A più tardi.